Cari amici, molti di voi lo sapranno già, ma alcuni no, e invece questa è una notizia di un'importanza storica, fondamentale, destinata a cambiare le sorti dell'intera umanità. Siamo in una nuova era, tutti i problemi sono risolti, non c'è nessuna nuba all'orizzonte, siamo nel migliore dei mondi possibili e quindi è giusto che tutti lo sappiano, è il prima possibile, il prima possibile. Vi chiedo aiuto, collaborazione, diffondete anche voi la lietissima novella, la lietissima novella e preparatevi. Forse c'era un po' di stanca, forse le vaccinazioni non erano così numerose come sembra, o come i dati ufficiali volevano dire. E fatto sta che adesso passiamo alle emozioni forti, emozioni forti. Presto, in Lombardia, la regione dell'efficienza, la regione, il motore economico, pensate un po' a Milano, la capitale economica del paese, la capitale morale del paese, retta dal sublime sala, con i calzettoni multicolori a strisce e con il vizietto di fare un po' di firme e magari di prendersi qualche condanna definitiva. Va bene, ci sta tutto, va tutto bene. I milanesi se lo sono rivotati e cazzi loro se lo tengono. Ebbene, chiusa questa parentesi, vi dicevo, avrete la possibilità, avremo tutti la possibilità di vaccinarci anche nelle ore notturne. E voi vedrete, vedrete chiaramente il valore aggiunto, quel quid, che magari si è fatto la prima dose, la seconda dose, la terza dose, presto si dovrà fare la quarta. Ed era un po' alla ricerca di novità, di qualcosa di nuovo da postare magari su Face. Io già me l'immagino, le foto, ore 1.23, fatta la quarta dose. E vai su Face, pubblica, ore 4.16 del mattino, fatta la quarta dose, e vai su Face, pubblica, eccetera, eccetera. Avete capito benissimo, di notte, giorno e notte, ma di notte è chiaro che ha tutta un'altra valenza, tutta un'altra, 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 ha tutta un'altra. Il vaccino di notte ha tutta un'altra e lo si potrà fare. Viva l'efficienza, viva la democrazia, viva la grande Lombardia, viva tutte le regioni che seguiranno e avanti coi carri. Iscrivetevi al mio canale, se vi va, Giorgio Riccardin, anche a Giorgio Riccardin 2, il muletto di riserva, e poi c'è il mio canale Telegram, Giorgio Riccardin, dove però di notte non si posta niente. Affanculo tutti!